Benvenuti a questa breve presentazione di Perpetuum Software LLC e della sua linea di prodotti offerta dalla società. Desideriamo innanzitutto condividere con voi i tratti peculiari della nostra società. Che cos'è Perpetuum Software LLC? Perpetuum Software è un fornitore di fama mondiale di componenti software per gli sviluppatori di report e di strumenti di analisi e visualizzazione dati basati sulla tecnologia.net. Perpetuum Software è una multinazionale con sede in Russia e uffici in Europa, Olanda e Italia, America Latina, Brasile e con partner in ogni continente. Perpetuum Software vanta oltre 3500 clienti in 73 paesi. Il vasto numero di clienti di Perpetuum Software include aziende di Fortune 500, enti pubblici e distruzione, società software e sviluppatori indipendenti. Tra i clienti più famosi della società figurano Siemens AG, Microsoft, NASA, Hewlett Packard e tanti altri ancora. Perpetuum Software è Microsoft Gold Certified Partner. Dopo sette anni di esperienza nello sviluppo di componenti software .NET, Perpetuum Software LLC presenta .NET Model Kit Suite, una suite completa di componenti progettati per la creazione di applicazioni Business Intelligence, per la generazione di report, l'elaborazione e la visualizzazione dei dati. .NET Model Kit Suite rappresenta un framework di sviluppo interconnesso con funzionalità di personalizzazione simili in fase di progettazione di esecuzione, gestione dei dati comuni e personalizzazione dell'aspetto. .NET Model Kit Suite è localizzato in 19 lingue. .NET Model Kit Suite viene fornito con il codice sorgente completo in C Sharp. La distribuzione delle applicazioni che utilizzano .NET Model Kit Suite non richiede costi aggiuntivi. .NET Model Kit Suite include i seguenti componenti, Report Sharpshooter, All-Up Model Kit, Chart Model Kit e Instrumentation Model Kit. Report Sharpshooter è un componente per la generazione di report nativi .NET che consente agli sviluppatori di creare report ricchi di funzionalità e di integrarli in applicazioni WinForms, ASP.NET e Silverlight. Con Report Sharpshooter gli sviluppatori possono creare facilmente report a campi incrociati, multicolonna, gerarchici, affiancati, di gruppo, master dettaglio, con collegamenti per testuali e di qualsiasi altro tipo. Report Sharpshooter consente di integrare vari elementi nei report, ad esempio grafici, tabelle pivot, indicatori, codici a barre 2D, immagini e illustrazioni. I report possono essere facilmente esportati nei 13 formati più diffusi, tra cui PDF, HTML, Excel e RTF. La finestra di progettazione per l'utente finale incorporata consente agli utenti finali di apportare modifiche nei modelli di report e nei documenti finali. L'altro componente incluso in .NET Model Kit Suite è OLAP Model Kit. OLAP Model Kit è un componente software basato sulla tecnologia OLAP e progettato per la creazione di tabelle pivot interattive che consentono l'analisi flessibile delle informazioni. OLAP Model Kit consente la seguente manipolazione dei dati, ordinamento e filtraggio dei dati dinamici in base a condizioni fisse o arbitrarie, calcolo di aggregati differenti per gli stessi dati, calcolo pivot dimensionale, raggruppamento interattivo dei valori, ordinamento in base al totale e molto altro ancora. I report OLAP possono essere facilmente esportati nei formati PDF, Excel, HTML e stampati. OLAP Model Kit consente di rappresentare i dati delle tabelle pivot sotto forma di grafici avanzati, grazie alla compatibilità con Chart Model Kit. L'altro componente incluso in .NET Model Kit Suite è Chart Model Kit. Chart Model Kit è un componente software che consente di rappresentare informazioni di testo e numeriche sotto forma di grafici 2D. Chart Model Kit consente di progettare vari tipi di grafici, ad esempio a torta, a barre, spline, a bolle, ad area, azionari, a candela, a punti, oltre che tipi di grafici personalizzati. I grafici possono essere esportati nei formati più diffusi e integrati nelle applicazioni Windows e ASP.NET. L'ultimo componente incluso per il momento in .NET Model Kit Suite è Instrumentation Model Kit. Instrumentation Model Kit è un componente software progettato per la creazione di indicatori di prestazione chiave, KP, sistemi SCADA e dashboard digitali. Instrumentation Model Kit include una corposa libreria di indicatori predefiniti, ad esempio contatori, quadranti, dispositivi di scorrimento, comutatori, barre di stato, manipolatori e molto altro ancora. Con Instrumentation Model Kit gli sviluppatori possono creare indicatori sulla base degli elementi esistenti oppure da zero. Gli sviluppatori possono creare indicatori di qualsiasi livello di complessità oppure specifici di un settore. Gli sviluppatori possono inoltre assegnare un comportamento sofisticato agli indicatori e fare in modo che l'applicazione visualizzi e monitori i dati trasmessi dai dispositivi hardware in tempo reale. .NET Model Kit Suite soddisfa i più esigenti requisiti di sviluppo di applicazioni e rappresenta una soluzione impareggiabile per la creazione di applicazioni Business Intelligence. Grazie per l'attenzione.